italiana solana allianza round table number two siamo live in questa super edizione con noi vedo di nf it gaetano decrypto game sm davide di 21 forti podcast sciocca la zanzara grandissimi eccoci eccoci buonasera buonasera grazie e per chi non lo sapesse ognuno a ogni ogni chiamiamolo influenza ogni content creator può andare in 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 video video sharing e quindi ci sarà numeroso numeroso pubblico soprattutto perché abbiamo una puntata che è incentrata su tutte le novità che riguardano straordinaria ascesa dell'ecosistema solana è iniziata più di sei mesi fa a questo punto fuoco alle polveri io partirei subito con l'asso di bastoni scusa un attimo ci hai presentati tutti e non ti presenti te abbiamo con noi eugenio benetta stavo menzionando sì che l'idea della isa italian solana allianz è nata babbiando chattando tra me e pietro sbagliati mesi fa con l'idea appunto perché con 2024 creiamo un contenitore per tutti i believers e gli adopters e dai users di tutti gli solana per far capire tutto quello che si sta sviluppando soprattutto dal punto di vista pratico perché quello che abbiamo da dire in più rispetto a tanti altri che magari o denigrano o si stanno avvicinando a solana è che noi siamo operativi cioè utilizziamo address i protocolli exchange dex tutto quello che c'è ormai da anche senza dimenticare gli nft e qui subito l'asso di bastoni partiamo con te e pietro cosa cosa è cambiato o come potrebbe cambiare il mercato degli nft di solana nei prossimi eh nei prossimi mesi visto che adesso abbiamo assistito a tantissimo interesse eh per i token e le meme coin di solana e questo ovviamente ha prodotto anche un po' di de plusso a di capitali da quel mercato da quel settore verso chi dal punto di vista della redditività della performance nel breve termine eh ha già dato soddisfazione e quindi eh un po' antiteticamente quello che accadeva più di un anno fa sul mondo nft pietro allora diciamo che eh ebbe nota tutto l'ecosistema generale il fatto che le meme coin in questo momento eh non eh non abbia l'intenzione di andarsene e da un certo punto di vista è positivo per chi riesce a sfruttare la wave però ehm in qualche modo eh si sperava che solana non fosse una copia di quello che è stato binance di quello che è stato ethereum con tutte le meme coin c'è da dire però che solana dalla sua parte al fatto che eh per via proprio delle della facilità delle transazioni della del basso costo e della velocità favorisce diciamo l'afflusso di queste di questi capitali enormi che stanno circolando giornalmente ora poi chiaramente ci sono delle ondate massimi diciamo massima capitalizzazione poi si eh ci sono momenti di respiro però a linea di massima l'attenzione in questo momento è completamente incentrata su quello e c'è un fatto interessante in questa cosa perché eh quello che fanno le meme coin essenzialmente non è altro che eh gambling allo stato puro ma eh a differenza di quello che è stato eh la sofferenza per gli NFT di Solana ossia trovare costantemente older benefit eh utility eh qualunque qualunque cosa che potesse esserci dietro a un progetto eh che era un po' la sua zavorra cioè ogni progetto che stabilisce una roadmap finisce sempre eh per essere schiavo di dei suoi older perché quando fai questo ma questo quando è pronto ma quando aumenta il prezzo ma cosa succederà ma cosa succede eccetera eccetera quindi le meme coin tolgono dall'equazione il problema dell'order dell'order benefit perché tutti sappiamo che dietro le meme coin c'è semplicemente culto cultura eccetera eccetera e gli NFT in questo momento eh stanno lì i founder dei progetti stanno sviluppando forse speriamo almeno quelli che ho comprato io e in realtà gli NFT adesso non non li sta guardando nessuno proprio per questo motivo perché eh un progetto NFT che si dà per un progetto a lungo termine ovviamente eh schiavo del tempo perché tanti progetti hanno bisogno di tempo per carburare e non è detto ovviamente che effettivamente riescano e quindi in questo momento l'attenzione completamente sulle meme coin anche perché sono più facili in qualche modo perché tu puoi comprare quanta ne vuoi cioè puoi comprare la locazione che vuoi eh ti fa la moltiplicazione che vuoi cioè ti fa un due per un tre per in base a quello che hai comprato gli NFT invece entri a quel prezzo lì e devi comprartene uno o due a seconda di quanto è di quanto sono grandi le tue bag e sperare diciamo che il progetto prenda piede cosa che tra parentesi legate diciamo a questo concetto di community e non utility che andava di gran moda su Ethereum ai tempi addirittura di Bored Ape lo stiamo vedendo adesso su Ordinalz in realtà quindi community che spingono progetti che non hanno alcun senso di esistere in termini di utilità però comunque hanno il loro trovano il loro spazio e riescono a a carburare e a fare insomma avere dei floor price veramente importanti perché parliamo alcuni NFT in floor price hanno 20 mila dollari 50 40 mila dollari e roba che su Solana non si vede da un bel po' salvo qualche eccezione giusto Madlads ma quello sappiamo essere un progetto a sé stante per quanto riguarda quello che succederà in futuro come diciamo sostenevo e continuo a sostenere ora gli NFT sono un asset un po' pericoloso perché non sappiamo se Solana ha intenzione di fare ancora un 2 per un 3 per un 4 per visto che diciamo da pronostico adesso si stanno chiamando i 1000 dollari diciamo come caso più bullish in assoluto ma non è così impossibile a mio modo di vederla a meno magari nel corso dei prossimi due anni bull market permettendo quindi come già ti dicevo sei mesi fa se Solana va a questi prezzi qua gli NFT ovviamente cioè dove vanno il problema non è tanto quello ma nel momento in cui Solana decide di stabilizzarsi da qualche parte allora a quel punto riusciamo a apprezzare gli NFT può diciamo ricrearsi una FOMO per queste NFT e nulla toglie ad alcuni NFT che adesso magari stanno a 5-6 mila dollari di riuscire a fare una run sui 20-30 mila dollari questo diciamo è io sono convinto di questo e ho ovviamente alcuni nomi in testa e a maggior ragione adesso io andrei a cercare quegli progetti che racchiudono al loro interno un uno storico di anni di costruzione che hanno da parte raccolto fondi importanti e che in futuro riusciranno a creare un valore e dare effettivamente qualcosa ai propri holders quindi tutti gli NFT che droppano qualcosa tra l'altro adesso sta andando tanto di moda la cosa se tu holdi l'NFTX ti andiamo a droppare il token che sta arrivando ha lanciato un po' mad lads questa cosa però adesso stiamo vedendo che tanti stanno entrando in quel diciamo in quella wave che è molto interessante come cosa perché l'NFT è il core della community perché sì le mme coin vanno bene però il 99 per cento non durano abbastanza non durano sufficientemente da riuscire a creare una community solida gli NFT invece riescono a creare community effettivamente solide durature quindi andare a premiare gli OG di Solana che hanno quegli NFT lì con token su Solana allora la cosa prende senso è logica e questo direttamente aumenta il valore è pietro cioè visto che entrambi apparteniamo alla DAO di Torino e salutiamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando lo anticipiamo perché sarà uno dei prossimi una delle prossime operazioni che saranno discusse in town hall ossia a un giorno prefissato si farà lo snapshot di tutti gli others che detengono almeno un NFT e poi ci sarà un premio appunto il 222 dopo il primo con una meme coin e così per testare proprio l'operatività e un secondo invece con un token sempre di solana più ehm più di di maggior rilievo che riteniamo possa nel tempo darsi eh dall'apprezzamento ritorniamo da te eh il prossimo giro per eh concentrarsi su alcune su alcune eh collezioni in effetti Gaetano eh anche tu sei un early adopter e un believer di Solana io ti ho conosciuto proprio grazie anche a questo eh vedo che eh hai nel tempo eh effettuato non solo test ma proprio un'operatività eh su on chain di di un certo spessore che non si vede che non si vede altrove come potresti o come ti sentiresti di provare a descrivere eh come si è evoluto l'ecosistema di Solana in questi ultimi 12 mesi cioè da all'inizio 2023 chiamiamolo così post trauma eh criptoglaciazione sino eh sino ai giorni nostri qui faccio una parentesi eh anche per creare creare FOMO sul prossimo evento tanti mi chiedono ma tu quella volta la come mai che erano tutti che si strappavano i capelli si è andato pesanti su Solana e così via eh primo era già da svariati mesi che avevo iniziato a utilizzarla al posto di Ethereum quindi da DeFi e così via ma quello che mi ha dato la luce verde è stato aver partecipato al breakpoint di Lisbona perché una settimana dieci giorni dopo è accaduto il crash di tutto il mondo se non avessi avuto il feedback di sviluppatori builder sistemisti e così via probabilmente anch'io mi sarei fatto trascinare dall'ondata di panico invece avendo visto parlato rendendomi conto di che cosa si stava costruendo ho detto no eh questa community sa dimostra resilienza e e adesso è il momento eh di fare di fare eh la calare l'asso di bastoni per ipotizzare il miglior trade degli ultimi anni Gaetano sì allora Eugenio eh tanto grazie del tempo che eh mi stai l'opportunità che ci stai dando dopodiché eh quello che tu hai detto ed effettivamente il il sacro graal il santo graal che io vado sempre a utilizzare per andare a scegliere insieme alla user eh user experience una blockchain piuttosto che un'altra c'è stato un periodo in cui ero proiettato molto su Ethereum quando Ethereum ha cominciato a spostare quella che era proprio la community la logica verso attività esterne quindi layer 2 chiamiamoli con il loro nome quindi stiamo ragionando del tipo eh facciamo bandiera bianca pensiamo ad anni e anni di soluzione per la scalabilità e ci spostiamo su layer 2 allora a quel punto ho compreso che eh quella che attualmente alcuni raccontano come una vittoria in realtà a mio avviso comincia a essere una 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 sconfitta perché è una sconfitta perché non è una soluzione è una soluzione tampone è una soluzione best effort a quella che potrebbe essere una soluzione in caso si andasse verso magari scelte differenti come quella che si stava pian piano attuando eh di cui tanto se ne è discusso magari eh utilizzando praticamente delle delle catene parallele ecco questa scelta che purtroppo è stata poi abbandonata per dare eh la vera scalabilità di Ethereum adesso si parla solo di layer 2 eh diciamo per me è stata una per me è stata una forte sconfitta e nel contempo ho cominciato a guardarmi eh intorno guardando intorno ho visto Solana che in quel momento c'era il panico che tu iniziati a dire e ho ho visto che il prezzo stava crollando tutti parlavano di investitori ma nessuno parlava di sviluppatori nessuno parlava che nel 2023 già avevamo una crescita di una percentuale elevatissima di più del cento trenta per cento del numero di sviluppatori presenti di Solana siamo passati dal 2023 al 2024 da 1475 sviluppatori c'è un'applicazione simpatica che ti fa praticamente scaricare la lista delle persone che stanno che sono attive in questo momento sull'ecosistema Solana quindi quando dico 1475 intendo 1475 persone attive quando dico 3.000 persone nel 2024 e siamo ancora a Q1 2024 oggi è il 27 marzo lo stiamo completando parliamo di 3.000 persone attive abbiamo raddoppiato il numero di sviluppatori attivi su Solana e di questi sviluppatori chi magari bazzicava anche su Ethereum può vedere nomi di persone che su GitHub magari sviluppavano anche su Ethereum quindi ti trovi persone pro Ethereum che pian piano hanno cominciato ad apprezzare l'ecosistema Solana e hanno cominciato a capire che effettivamente è piacevole sviluppare su Solana è bello è divertente c'è qualcosa che veramente appassiona magari lo sviluppatore in se per sé non ti va a abbandonare la chain nella quale ci ha sviluppato per anni perché ha fatto figli ha fatto progetti in quella chain quindi più che altro magari si sposta altrove mantenendo quindi i propri progetti anzi cerca di spostarli verso magari ecosistemi che in questo momento stanno pian piano cominciando a sbocciare come ad esempio quello di Solana dico sbocciare perché ancora non siamo in una fase completamente definitiva in quella che è la blockchain di Solana ancora manca tanto solo quest'anno basta pensare che stiamo tutti attendendo quel patitico giugno si spera giugno con l'uscita di Firedancing che praticamente va a cambiare tanto nell'ecosistema Solana ultimamente è uscito pure un approccio risolutivo a quelli che possono essere anche i blocchi della chain che tanto hanno fatto diventare il paradigma della chain che si blocca ecco questo è il grande paradigma della chain che si blocca già rispetto all'anno passiamo ancora in una fase beta perché non lo dico io lo dice il versioning praticamente della del progetto siamo in una fase in cui siamo passati con svariati blocchi negli anni precedenti a un 99 e 94 per cento tra marzo 2023 febbraio 2024 con uptime della chain ci abbiamo un unico downtime che si è stato segnalato nel nel febbraio 2024 che è durato pochissimi secondi abbiamo un numero di abbiamo la cosa bene che abbiamo e ricordiamoci che in quel momento la era partita la bermania ecco ragazzi shortati Solana che adesso crolla tutto quanto quanto sono durati esatto cioè durato pochissimo uno dice vabbè ma la blockchain è qualcosa che non si è bloccare prendi bitcoin non si è mai bloccata questo è anche vero però le soluzioni che stanno mettendo in atto cioè chi allora chi sta nel mondo ai siti io praticamente sto nel mondo ai siti e ci vivo il mio lavoro ci ho studiato eccetera quindi vi basi a questo settore sa che qualsiasi soluzione nuova che esce ha bisogno di essere ottimizzata quello che viene fatto su tutto non c'è non è che in questo momento uno si basa il fatto si blocca fa schifo la butto nel dimenticatoio no il l'ingegneria che c'è dietro ti trova il problema ti capisce la soluzione mette in atto un'alternativa valida praticamente che ti va a rafforzare e va quindi a creare quella della robustezza con la fine della soluzione che devi mettere in atto è quello che stanno facendo su Solana se non avevamo un 99,94 per cento di uptime tra marzo 2023 e febbraio 2024 se abbiamo questi valori è perché in questo momento ci abbiamo gente che nonostante le transazioni che ci sono sulla su Solana e attenzione non ci sono mai state così tante transazioni perché non ci sono mai stati così tante meme coin e anche questo è vero e le meme coin ricordo giusto per ritornare su Ethereum che quando c'è stato ai tempi chiamavola meme coin la i gattini che venivano venduti ai tempi su Ethereum hanno bloccato Ethereum ma l'hanno bloccata mi ricordo 2017 mi sembra non mi ricordo adesso l'anno però mi ricordo che è stato devastante questa cosa dei gattini dei cripto kittis la sarà una cosa devastante cioè quindi per farti capire è che allora che fai butti Ethereum negli alimentatori anche l'hanno cercato di rimediare ma Ethereum ha un problema di base su come è stata costruita e nel per il quale in produzione è difficile risolvere o trovare una soluzione che possa garantire effettivamente quella scalabilità l'approccio è stato andare per strade meno tortuose a passare presente su layer 2 e quindi questo è quello che è successo anche il discorso delle dap e quindi torniamo anche una logica un di cui di quello che è l'aumento degli sviluppatori il numero delle dap su Solana praticamente ehm se rapportiamo ad Ethereum Ethereum era sette volte ehm praticamente eh a partire dal Q3 2023 quindi il dato abbiamo praticamente un numero di dap che era sette volte inferiore a quello di Ethereum attualmente il numero delle delle dap sviluppate su Solana si sta quasi avvicinando praticamente a un valore significativamente eh uguale a quello che c'ha stranamente a quello che c'ha di Ethereum ehm quindi potremmo dire anche per gli NFT quasi dire che quali c'hanno più rispetto a quelli che abbiamo su Ethereum cioè quello infatti è una delle principali analogie che ho iniziato a a notare eh quando ricevo i report lì di tutti i soggetti che fanno previsioni su eh i prossimi prossimo prossimi 12-18 mesi non si può ipotizzare che succederà come a che passò a 50 dollari a 5 mila dollari perché all'epoca eh ci trovavamo in condizioni cosiddette socio economiche e macroeconomiche che forse erano irripetibili cioè la pandemia e tutto il resto eh oggi infatti se notate eh almeno amici conoscenti colleghi così via non è che siano così tanto interessati né a Bitcoin né a Ethereum cioè cercano eh un'alternativa più a buon mercato. Sam e David eh in tal senso eh qual è il feedback che avete avuto voi con la vostra community in questi ultimi eh tre mesi proprio in relazione performance di insolana scesa della meme mania e poi se avete iniziato a avere feedback anche con interazioni più evolute quindi niente gattini niente draghetti ma magari eh Perpetuals sui decks di Solana che potrebbero portarci di Perpetuals eh nei prossimi nei prossimi mesi. Bene Wedro hai suonato il gong. Wedro sei un monaco tibetano. Si è sentito una mina devastante. Allora eh Siamo avuto entrambe. Grazie mille grazie mille per il gancio no perché volevo collegarmi proprio a questo discorso delle meme coin e allora intanto vabbè su Solana tutti tutti super bullish tutti super contenti di quello che è successo all'interno della nostra community. Non vogliamo addostare nessuno ma abbiamo un pazzo all'interno della nostra community che ha fatto eh cinque cifre vicino alle sei cifre eh con una cifra di una cifra di trade in long mille quindi nel senso chapeau non lo doxiamo ma sei sei nostro padre già lo sai. Sì sì no diciamo che da quattro dollari a settantacinque mila con leva a mille per su Rollbit è stato uno di quei pazzi che ci hanno provato ma questo pazzo qua effettivamente ce l'ha fatta. Eh ma in quel caso volete investire fare gambling? Eh infatti l'ha fatto l'ha fatto su Rollbit l'ha fatto sì no sì è stato uno di quelli che che ce l'ha fatta eh però effettivamente se posso dire comunque non dico sia stata una safe play perché vabbè se ci metti in mezzo una leva mille ok però anche se una persona avesse fatto appunto con una leva un pochino più bassa comunque conoscendo effettivamente eh il il mondo di Solana community di Solana community di developer come hai detto te anche prima che sei andato al break point hai visto comunque eh la voce degli sviluppatori hai sentito la voce le testimonianze degli sviluppatori e ti sei convinto effettivamente che qua c'era qualcosa di gustoso e effettivamente una play di questo tipo è un qualcosa intanto che ha la possibilità di dare life changing returns e intanto comunque non era così tanto impossibile da fare perché appunto bastava solamente informarsi per cui mi dispiace ragazzi tutti coloro che tra di voi non hanno fatto queste play allucinanti sono in realtà dei bitcoin maxi latenti ve lo diciamo avete la la sindrome mi dispiace un po' come il parkinson fate voi i conti con con il vostro essere demone interno comunque mi si chiama sei quello comunque eh per quanto riguarda le min coin io trovo che questa narrativa sia particolarmente interessante perché eh mi trovo anche d'accordo con quello che diceva Auedro di NFIT nel senso che mh stanno agglomerando al loro interno tutto quello che è il proprio i gamblers folli appunto la parte sbagliata del mondo cripto se vogliamo la parte che non ha eh non ha intenzione di approfondire certe tematiche ma comunque si ferma alla mera speculazione ehm in modo da comunque andare a creare altri mercati quindi cripto all'interno insolana nft all'interno insolana eh che sono effettivamente molto più stabili hanno molto più eh un riflettore puntato su di loro per far sì che le loro sfaccettature positive vengano viste ancora ancora di più anche perché se comunque vai a togliere una componente di utenti fortemente speculativi da tutta questa serie di progetti effettivamente tutta questa serie di progetti hanno la possibilità di eh buildare molto di più hanno la possibilità di eh magari non vedere sin da subito 100 per 200 per cose folli in modo tale che effettivamente anche il loro ego venga il loro ego venga in un certo senso tenuto a bada e che quindi si mantenga proprio il focus da bear market adesso cercate di capire eh quello che sto dicendo comunque il focus da bear market che ti fa dire ok siamo qua è tutto abbastanza tranquillo focussiamoci sul buildare perché poi i ritorni li vediamo quando tutto va effettivamente come deve andare perché se un prodotto è valido ovviamente avrà il suo momento per per brillare certo certo no eh quello che vale la pena anche dire che si parla sempre no della narrativa etere un killer si parla eh di questo dualismo che in verità non è mai stato un dualismo perché eh è giusto che in un in un ecosistema che si vanta di essere decentralizzato per quanto poi sappiamo che Solana come Ethereum come qualsiasi layer one abbia le sue componenti giustamente eh che vanno tenute d'occhio con un qualcosa di centralizzato perché se no eh non siamo ancora al punto eh utopico in cui tutto può funzionare eh senza nessun tipo di burattinaio eh anche se in questo caso il burattinaio è stato comunque dilazionato quindi non è che stiamo parlando di eh Walmart ehm o comunque una un'istituzione molto centralizzata eh Eugenio il vero Ethereum killer intanto ci arriva dalla chat sono d'accordissimo ehm dicevo che eh quello che è sempre mancato la nostra è vero la nostra community eh quello che a mio avviso è sempre mancato eh per per una blockchain nella sua coesistenza pacifica con Ethereum è stata una di due cose ovvero eh una è l'ecosistema pratico quindi con use case ma non solo in generale persone che popolino ciò e e dall'altro lato eh l'efficienza tecnologica stiamo vedendo con Solana che finalmente c'è un competitor che ha sia il trend dalla sua parte la moda le persone in cripto che eh non solo le whales ma anche i retail un po' più piccoli le persone con un po' più di esperienza che non sono ancora a livello di poter manipolare il mercato usano Solana perché non c'è più una vera e propria eh un'uscita non c'è un'uscita per dire ah ok tanto vale usare Ethereum o tanto vale eh comunque affidarsi al caro vecchio mondo che con cui ci siamo abituati quando non hai percepito il il ruolo di killer application gli si possiamo utilizzare questa parola per phantom rispetto a metamask per chi è il new adopter assolutamente quella è devastante è davvero devastante infatti anche lì poi magari torniamo sul discorso per dicendo però eh ora come ora comunque stiamo vedendo una situazione nel quale i grossi pilastri che sono stati i pilastri fino ad ora del mondo cripto stanno venendo un pochino soppiantati dalle nuove tecnologie che non hanno più il ruolo di newcomers di bambini che vogliono credersi più grandi della compagnia ma effettivamente arrivano e sono quei piccoli geni che dici merda ma c'hai dieci anni in meno di me sei fortissimo esempio esempio stupido abbiamo da una parte magari ehm metamask dall'altra parte wallet molto più completi come può essere un rabbi come può essere un phantom e vi dicendo no e io personalmente ero scettico su sta roba no perché comunque sono sempre stato utilizzatore di metamask comincio a usare rabbi e dico cazzo questa roba qua effettivamente funziona da dio e se non si vuole trovare soluzioni così complicato comunque diciamo piene di funzionalità come rabbi c'è appunto tranquillamente phantom che anche su mobile va a vincere una grandissima challenge contro metamask ovvero quello di riuscire a funzionare da dio anche da mobile e non è una cosa da poco è un qualcosa che comunque se ci pensi è probabilmente uno degli strumenti migliori quando si tratta di un bordare la nuova generazione di utenti cripto che probabilmente si avvicinerà al settore proprio in questo ciclo di mercato per cui la trovo una cosa super super interessante vedere come si sta rinnovando questo settore e lo chiedo a tutti quanti partiamo da pietro poi andiamo da gaetano e anche da voi vi è capitato vi è risultato che in questi ultimi due mesi amici conoscenti colleghi o qualcuno che magari nel mondo cripto più di tanto non è che interessi però ha sentito sentito che e vi abbia chiesto come si fa a investire su solano al posto di voglio comprare bitcoin voglio comprare ethereum vi è capitato a me personalmente no però ho assistito ad alcune conversazioni al supermercato dove parlavano di bitcoin qualcuno che ribatteva sì però ci sono delle monete con il quale puoi fare dei gain importanti da un giorno all'altro ma secondo te bitcoin può andare al cioè se io investo in bitcoin quanti soldi posso fare le classiche chiacchiere quelle da retail e però secondo me non sono ancora arrivati del tutto cioè sono ancora nella fase in cui si fanno le domande però non non sono ancora effettivamente entrati secondo me questi che hai sentito non ci arrivano proprio ma eri tipo a genova sturla dove eri no ero a genova centro pieno centro storico allora ci sta però la cosa la cosa che parentesi diciamo rispetto cioè parentesi coerente con questa cosa manca secondo me ancora che è una cosa che ho sentito nello scorso bull perché io sono entrato attraverso questa cosa qua il gancio dell'exchange cioè gli exchange che ti danno l'incentivo per entrare nel mondo cripto perché io alla fine cioè sono entrato perché mi attirava la cosa di cripto.com la cosa della facilità di gestione degli asset e quant'altro e poi quello iniziato diciamo a diciamo fare a farmi le prime abilità nell'ambiente poi da lì è nato tutto il resto però l'exchange come porta d'ingresso ora non lo sento cioè non vedo gli incentivi grossi bellissimo e tu che data mi è capitato a voglia tanti amici ma adesso sta crollando il mercato che facciamo dove che faccio esco e detto io quando quando tutto crolla se esci ti fai più male di quando tutto sale c'è stai prendendo un coltello mentre cade c'è la stai facendo ti stai facendo veramente male che facciamo è proprio un briciolo mi prendo la responsabilità non ho mai dato questi finanziari metti tutto su solana è andato lì su solana questo ragazzo oggi a 200 dollari erano eravamo a 9 dollari e qualcosa eh ma adesso ho più di prima ho più di quando eri in burran che devo fare questo vedi della tuccia io non ti posso dare un altro consiglio a quanto arriverà la becchetta magica la sfera di cristallo ti posso dire che stiamo comprando codice comprato codice sorgente c'hai un sacco di sviluppatori che stanno crescendo e ti stanno sviluppando là sopra quindi è un ecosistema che in questo momento ti garantisce una crescita poi attenzione parte la guerra tra la nato e e la russia ci mandano in guerra pure a noi portati leggere al collo ma cioè a quel punto crolla tutto però sì effettivamente questo è adesso il non dico il rischio ma uno scenario che bisognerebbe iniziare a soppesare perché io vedo un'euforia e un ottimismo un po' dappertutto adesso c'è come se quest'anno dovremmo vedere subito in super nuovi mega livelli di prezzo c'è una una un allineamento omogeneo su beh vedrete su nuovi nuovi nuove quotazioni tutte trainate da questa enfasi mediatica attorno a bitcoin e senza sta comprando tutto il mondo bitcoin siamo lì ancora impalati a 70 mila si ritiene che dopo l'alping statisticamente per quello che vale tre volte ci dovrebbe essere una certa contrazione sul prezzo di bitcoin chi chi parla di un meno 20 chi addirittura un meno 30 in questi casi in questi casi perché l'abbiamo notata sia la resilienza che anche una fase di decoupling di alcune altre come vi aspettate che vi aspettate che si segua a ruota l'andamento di bitcoin oppure anche nel nostro auspicio che si inizino a enfatizzare ad aumentare appunto i fenomeni di o de correlazione o meglio ancora di decoupling per cui se questo si verifica su bitcoin le altre vanno per la loro strada dopo tutto l'alping che cosa riguarda l'alping a che ne so cardano a itinium a solana e così via chi va chi va vedro io forse sono il meno esperto di tutti su tutto questo aspetto però io posso dare il punto di vista di un di un retail proprio base e la mia sensazione è che non siamo neanche ancora arrivati in quella fase in cui le altcoin diventano shitcoin e mi ricollego al discorso di prima cioè le altcoin non c'è stanno compando solo quelle capitalizzate bene o quelle che sono promettenti però non ancora visto effettivamente un pump di diciamo alcuni asset che si dice possano essere promettenti però effettivamente dove la ciccia ancora e ed è una cosa che mi aspetto però come era successo nello scorso ciclo cioè 2021 c'era stato c'era stato il doppio picco di bitcoin e durante la prima corsa prima diciamo del dump importante che è stato un dump enorme perché pare che sia andato sui 30.000 forse anche 30.000 prima avevano pompato determinate alz ma non tantissimo durante il secondo picco è lì che poi l'alt season secondo me ha dato il meglio perché abbiamo visto polka dotta tipo 40 50 55 c'è stato solana che la th c'è la th l'ha fatto nel secondo ciclo quando nel primo in realtà non si era mossa più di tanto si aveva fatto da diciamo prezzo di ico a mi pare un 40 dollari poi dump e poi beh un 250 e come questa ce n'è tutta un'altra serie quindi in realtà adesso che tutti si aspettano che il loving sarà un evento di di dump bitcoin che era una cosa che pensavo io perché logicamente nel senso prima o poi si deve fermare un attimo deve respirare un attimo e però a questo punto visto che tutti pensano che sarà un evento di dump secondo me invece sarà un evento di pump e probabilmente il dump arriverà dopo a questo punto cioè troppo ovvio cioè quando è troppo ovvio poi succede sempre il contrario funziona cioè per me funziona così mi sembra un'ottima tesi guedrone diciamo che la cosa del dell'ovvietà che diventa poi totalmente ovviata e corretta dal mercato credo sia l'ovvietà è che non c'è nulla di ovvio quindi assolutamente mi trovo alienato con te credo anche che per parlare brevemente dell'alving prima di parlare anche del punto primo ovvero qual è la percezione magari del retailer o del nuovo arrivato su solana se ci è capitato perché anche noi abbiamo esempi che piovono dal cielo e credo che essendo arrivati all'oltre mai prima dell'alving che è una cosa sostanzialmente mai vista e io mi aspetto personalmente una fase di rintracciamento moderato e consolidamento in laterale a meno che di eventi macro molto importanti abbiamo visto che c'è stato un attentato molto grave a mosca non si sanno ancora le parti coinvolte al 100 per cento si sa del dagestà di una serie di termini che se diciamo anche su twitch ci banano quindi lasciamo perdere e potrebbero esserci eventi anche un po più drastici ancora più drastici di questi che diventino un vero proprio black swan può essere a meno che di ciò però io mi aspetto consolidamento laterale con una correzione post alving e per poi vedere il classico pump di fine anno e anche perché nel q2 c'è anche tante iperestensione nello stock market nell'azionario quindi è difficile che in queste condizioni macro sia economiche che sociali potremmo vedere un'altra leg up gigantesca prima del quattro almeno in mia opinione c'è anche il ciclo presidenziale da considerare quindi il q2 potrebbe essere a tutti gli effetti l'ultimo momento in cui la fed e in generale le varie le varie istituzioni monetarie lasciano un po di spazio al mercato per andare per i cavoli suoi invece che sostenerlo anche un po artificialmente con varie policy a livello aziendale quindi io da quel punto di vista lì quella è la mia opinione dal punto di vista invece del decoupling o del decoupling chiamano come vogliamo credo che siamo non ancora al momento di non vedere un movimento fisiologico in cui il mercato segue btc al primo dump importante perché l'abbiamo visto che in questi giorni oggi c'è stata una notizia molto molto tranquilla alla fine per gli standard crypto in cui coinbase potrebbe aver agito con una security non registrata agli occhi della sec e c'è stato comunque un movimento di tutto anche di coin legate a progetti e use case che non c'entrano proprio nulla quindi credo che sicuramente in un ipotesi di un dump importante e la correzione fisiologica di tutto il settore ci sia credo anche che rispetto agli scorsi cicli ci siano delle narrative impossibili da ignorare e soprattutto per gli investitori astuti vedremo tanti capitali grossi muoversi prima all'interno di queste coin piuttosto che aspettare una correzione incredibilmente gigantesca perché prendiamo in questo caso le ai a breve potremo vedere quanto un computing ci sono delle cose che gli scorsi cicli non c'erano quindi credo sicuramente che ci sarà un decoupling magari con una fase intermedia sì semplicemente si tratta mi trovo molto accordo con quello che dici perché secondo me si tratta proprio di arrivare a una fase nel quale il mercato raggiunge quello stadio di maturità che magari negli anni scorsi non aveva cioè gli anni scorsi magari stava facendo la sua la sua fase di sviluppo per diventare un bambino grande e ora come ora invece effettivamente si sta facendo riconoscere anche il mercato alco in generale come un qualcosa di effettivamente solido perché non sono più viste tante come alco in generale ma come i progetti oramai established perché comunque hanno alle spalle uno storico di anni che gli permette di far vedere che hanno un certo livello di resilienza rispetto al mercato ma non solo c'è più che altro proprio un livello di utilità emotivo c'è proprio ragion d'essere in quel senso lì assolutamente per ritornare un attimo indietro al discorso di gente gente strana che ti approccia per strada queste criptovalute penso che ormai ci stia succedendo bene o male a tutti già tutti coloro che sono all'interno di questo settore chi più o che meno riceve comunque domande da persone che magari fino a un attimo fa si interessavano dei carri armatini di plastica vengono da tetti dicono zio senti ho trovato questa questa meme coin si chiama nome allora guarda ho visto sta roba qui si chiama usdt solamente un dollaro ma se ti do 10 mila dollari li metti in usdt quando me ne dai 12 mila smog attenzione a non financial advice smog is the new usdt no questa la faccio vedere perché l'abbiamo aggiunta come in coin di milano acquisto degen come dicono i ragazzi giovani per per la dao 250 dollari per la lombardia cosa far chissà cosa io non entro nel merito tanto di meme coin se siete dei dei user che fanno elevata movimentazione su on chain ne devono essere arrivate in queste ultime due mesi una proliferazione abnorme galetano invece nel tuo caso che cosa che cosa ti aspetti tra impatto alting ecosistema solare allora intanto io sono spaventato dal fatto a dici tu ok una cosa legata all'etf di bitcoin sono un pochettino spaventato dal fatto che abbiamo avuto effettivamente una crescita del mercato prima dell'alting cosa che non si è mai verificata credo sempre fermamente che in questo momento l'alting anche per rispondere a una domanda che ho visto l'impatto anche sui mai e sui 12 a 6 ma stiamo passando da 6 a 3 quindi stiamo abbiamo ridotto praticamente quel delta eh di di numero di di bitcoin eminati per blocco quindi anche in termini di eh pressione di vendita nettamente inferiori rispetto a quella che potevamo avere comunque negli albini precedenti quindi non mi aspetto grandi eh cambiamenti di diminuzione della pressione di vendita perché giustamente stai eh hai un prezzo più elevato ma stai effettivamente anche giocando sul fatto che non hai più quel guadagno che avevi magari prima che poteva avere prima un conto è 12 a 6 avevi un 6 di differenza ora virgola eccetera eccetera eh rispetto ad adesso e ancora di più quando ci saranno gli albing successivi comincia a essere un pochettino inefficiente diciamo questo paradigma dell'albing per il quale non ho mai creduto è sempre stato una diciamo un limite mentale sostanzialmente ti metti quella linea mentale dopo l'albing avviene quello che deve avvenire dopodiché eh c'è la logica che molti ecco questa è una cosa che nessuno mai ha espresso fino ad adesso quando io compro un etf su bitcoin o qualcuno lo compra per me in quel momento non non va a cambiarlo con le altcoin ok perché non è che c'è un etf su qualche altcoin attenzione quindi il fatto che sta aumentando il cosa succedeva prima prima il flusso era così entravano capitali su bitcoin si riversavano sulle altcoin partendo dai tirum soprattutto e poi su meme coin e poi ti arrivava la persona e ti faceva la domanda eh scilla mi il mille per che farà che viene fatto in un giorno quando ti arriva quella persona crolla tutto di solito a me a me per me è successo così praticamente devi scappare sì allora a quel punto devi scappare ecco adesso questo flusso si è un pochettino interrotto ho fatto l'etf perché una volta che compri bitcoin come tf e quindi in questo caso magari blackrock deve comprare bitcoin a sua volta quando tu andrai a vendere l'etf non l'andrai sostanzialmente vai a ritornare in fiat non vai a passare in altcoin quindi sai anche questo questo diciamo questa differenza che si è venuta a creare che mi lascia un pochettino col punto interrogativo dico allora in questo caso le altcoin che sono cresciute in questo momento da dove sono entrati questi fondi sia l'incremento di bitcoin almeno la narrativa ci racconta che è legata all'etf perché non è sicuramente legata all'halving ancora non è avvenuto quindi sono tanti punti interrogativi adesso c'è pure il discorso che si è aperto di ethereum che la sec vuole forse decidere se si tratta di un di una security o no ecco questo poi secondo secondo quello che può essere il test di away devi andare a verificare se una security per i primi tre punti diciamo che può essere security per il fatto della decentralizzazione se viene dimostrata forse esclude il fatto che di roma possa essere una security e di conseguenza tutto quello che ci sta sotto e quindi magari questo potrebbe fare ulteriormente andare a incrementare il prezzo di bitcoin perché chi sta sui dirum dicendo mizzi che la sec può decidere che security e la succede altro che etf poi sui dirum che vediamo perché chi è che ci va a investire quindi magari c'è un flusso di capitali che si sposta su bitcoin e penseremo che sarà l'effetto halving ecco ci sono tanti pensieri in questo momento mi girano in testa però sicuramente deve respirare il mercato deve respirare solana e cresciuto in maniera esponenziale ma più che un crollo vedo una lateralizzazione come si è detto e poi una ripresa perché effettivamente come si vuol dire c'è materia c'è materia dentro non è non è un pallone vuoto è un pallone pieno di sabbia però sabbia bella dura attenti prima adesso prima di andare da pietro su nft magari una chiamata ok per se lo vediamo assieme beh non dico telegrafico non dico telegrafico a tutti e tre a tutti e quattro ma secondo voi se non ci fossero stati questi questi 30 f dei su bitcoin quanto varrebbe oggi 40 mila è secondo me saremo saremo forse su quei livelli se non meno perché comunque conta che tanto c'è tanta salita del prezzo di bitcoin è stata data proprio dall'aip non tanto dei capitali che hanno creato gli etf per cui proprio dall'aip dell'idea dell'etf stesso e probabilmente se comunque viene tolta un po la questione dei rumor negativi rispetto all'etf di eterium che alla sec gli arriva la chiamata da Larry Fink e gli fa dai senti non far cazzate e comunque si comincia a parlare di approvazione vedremo la stessa identica cosa anche su eterium considerare anche che su eterium c'è uno storico non solo di speculazione o di dichiarazioni off the record riportate su coindesk ma anche di dichiarazioni dette ridette dalla se stessa sia in tribunale e nel congresso statunitense che da quell'uomo lì che c'ha i capelli più belli di sempre e quell'uomo lì che c'ha la situa e che appunto definiscono eterium molto simile a bitcoin in termini di commodity o security oppure come una non security al pari di bitcoin al pari di altre due mi sembra polygon e litecoin queste sono dichiarazioni che sono state fatte anche in sedi giuridiche importanti e se mai si dovesse arrivare al punto in cui come nel caso dell'etf btc gli issuers piuttosto che quelli che vogliono convertire etf non spot fino ad arrivare a etf ad avere un etf spot come come gris scale o 21 shares o arc o chi ne ha più ne metta ci sarebbero delle dichiarazioni ancora più importanti a favore di eterium e quindi stiamo parlando di una voce che è comunque legittima perché sappiamo che la sec è un po come è un po come cioè avere a che fare con non lo so un gatto randagio che poi ti entra in casa all'inizio mangia i viustel poi comincia a romperti tutto e parabola particolare cosa ti è successo ultimamente è così nel senso loro da un momento all'altro hanno hanno le loro cose e ci sta e come abbiamo visto con l'etf btc c'è stata paura fino a una settimana prima e adesso la giustificazione primaria per il diciamo le quote discendenti rispetto a etf si etf no per eterium sono state ma non stanno parlando con i potenziali issuer però abbiamo avuto le prime notizie che stavano parlando veramente con gli issuers per btc due settimane dieci giorni prima dell'effettivo rilancio quindi sicuramente c'è una componente di paura e anche di una componente macro che vuole far calare un po questo mercato e non far vedere livelli di per comprato mai visti sì sì quello sì però secondo me poi arriveremo a una a una certa nel quale effettivamente forse ha quasi sempre meno senso riferirsi a bitcoin come bitcoin e alle altcoin generali come altcoin perché appunto sebbene magari negli anni passati ci fosse stata questa grossissima distinzione tra bitcoin e tutto il resto dove magari ci aveva il 70 per cento di dominance come nel 2020 per dire e il resto erano letteralmente briciole adesso in realtà comunque vediamo una dominance di bitcoin che resta comunque alta perché perché comunque appunto con gli etf l'abbiamo visto che si è mangiato dominance rispetto a tutto il resto e anzi ancora prima del tempo ha fatto ha fatto gli ultimi non fosse stato per per gli etf comunque l'abbiamo visto l'abbiamo detto un attimo fa non sarebbe non saremo qua ecco e però in realtà in futuro è molto probabile che arriveremo a una condizione per il quale bitcoin per assurdo potrebbe anche non essere più il numero uno o meglio potrebbe trovarla suonare non tanto da non tanto da king ma come da semplice oro digitale semplice riserva di valore come signore feudale non come chi chiaro cioè torniamo al feudalesi con con tutto il resto dei altcoin che invece hanno la loro la loro linea sempre più persone trattano l'alcoin come un mercato azionario assolutamente un bel po più reattivo sono tech companies alla fine perché rispetto a quattro anni fa adesso puoi costruire un portafoglio un basket cripto e generarti una rendita sfruttando le staking reward quattro anni fa questo era sì si poteva fare ma era per pochi c'è adesso viene ritenuto come una funzione una disponibilità per per tutti ritorniamo da pietro con i nft come ho scritto pubblicamente anch'io adesso faccio parte del ok sapete che lo sto facendo quando realizzando le tue maglie di di bershka come stai facendo le tue maglie di bershka di zara che quando realizzo dei profit a certa consistenza una parte mi vado a comprare un nft di prestigio o se non altro una collezione blasonata che questi ultimi mesi magari ha sofferto come prezzo e così via pietro dici qualcosa innanzitutto su che i bers e sei a tuo modo di vedere ce ne sono facciamo un paio che sono su due i radar e che ti stuzzicano particolarmente ma allora ok verso purtroppo questo qua che mi hanno piattato bellissimo dall'altro polar mi piace quello bianco a me c'è uno anche io bipolar bipolar fur il problema di ok bers è che nonostante le partnership grosse che abbiano chiuso si trovano diciamo in una situazione non molto favorevole perché tu sei riuscito a comprarlo adesso a cinque più o meno ma tipo tre settimane fa stavano sui 13 14 c'è stato un crolli importante perché hanno deciso di lanciare la loro seconda collezione altri 10 mila pezzi su chain ethereum perché hanno questo feticcio di andare multi chain perché hanno due collezioni su bitcoin una su solana una su ethereum da quanto ne so ne vogliono fare un'altra su non mi ricordo quale chain però hanno questa cosa di voler andare multi chain per magari a un certo punto questa cosa sarà una roba super in trend loro saranno i primi ad averlo fatto però teoricamente è un un nft che vuole creare diciamo un brand di abbigliamento e con varie partnership tra le quali con red con zara con emg insomma hanno sono nel panorama nft quelli con il pool di partnership più più grosso però è in qualche modo questa cosa non viene riconosciuta perché come ti facevo il discorso all'inizio holder benefit da ok bers gli holder si sentono un po diciamo in disparte perché a differenza diciamo degli nft importanti in questo momento che vengono selezionati per airdrop e quant'altro ok verso sono un po in disparte non non vengono molto calcolati e resta al fatto che quegli obiettivi che loro hanno raggiunto utili o non utili comunque rimangono per me l'elite su solana in quanto a partnership e sono probabilmente per quanto mi riguarda nella top ten dei dei progetti tra solana ed ethereum il problema è che c'è alla fine la community decide il prezzo il prezzo in questo momento non è assolutamente diciamo quello che secondo me dovrebbero avere mancano dei tasselli ovviamente per te sarebbe un fair price market price 3000 dollari adesso allora non adesso no perché comunque ora loro sono al prezzo ha dampato parecchio ma in realtà tutto il mercato nft ha dampato parecchio solo che si tende a guardare quello che sta performando peggio generale perché hanno deciso di lanciare la seconda collezione nel momento peggiore in assoluto e il fatto è che loro hanno avuto una price action terribile nel senso che post mint tra te 200 e 200 solana adesso stanno a 5 quindi sempre sotto l'occhio del sempre sotto diciamo l'occhio del ciclone esprimiamolo anche in us e dollars in dollari americani 4 mila dollari adesso stanno a mille giusto no stavano a 20 mila dollari a top a th 20 mila dollari chi quali due anni fa ma la gente che li prendeva pensava fossero degli orsi reali o no perché c'era diciamo essere creata una una fomo di massa dove magari più si pensava compravano compravano vorrei dei 2.0 c'era questa perché alla fine anche anche l'nft ha un po di quella hanno ripreso sono ispirati tanto a quelle cose lì ne parlavamo forse una volta che siamo andati live insieme che comunque nft come gli ok bears checkano tutte tutte le flag sulla checklist del buon nft comunque profile picciurabile semplice un botto di varianti orsi animali animali no no quello assolutamente sì infatti diciamo esteticamente sono quelli più godibili dal mio punto di vista poi ovviamente è soggettiva la cosa poi ovviamente c'è stiamo parlando di pfp collectibles non stiamo parlando di picasso non stiamo parlando di art ovviamente però comunque per l'ambiente pfp cioè ok bears checkava tutti tutto quello che doveva cercare il problema che adesso stanno soffrendo e non so se effettivamente questa cosa cambierà come avevo fatto un discorso con qualcuno qualche tempo fa serve serve nuove servono nuove persone non perché ti serve exit liquidity ma per il semplice fatto che uno che entra adesso che non sa tutto quello che è successo non sa tutta la fad che c'è stata non sa perché c'è questa gente che arrabbiata arriva vede le partnership che hanno fatto vede che il progetto è un progetto che sta buildando da anni non gliene frega niente che sono dampati da 200 li vede a 5 dice ma come è possibile che un progetto del genere con queste partnership abbia un valore così basso me lo compro però adesso persone influenti adesso faccio un po il pir la controcorrente adesso faccio un attimo il pir la controcorrente nel senso che la peppa ah invece graetano passiamo a graetano dopo ci ritorniamo sugli nft tenetevi caldi graetano tu segui anche qualcosina di nft o hai qualche nft che in portafoglio di cui sei pieno in questo momento nessuno il silenzio parla ma caetano però tra poco tra poco compro un orso pure io guarda stasera voglio comprare un orso voglio farmi del male ho deciso quindi tutti quegli occhiali ho anche io di là max bid max bid no ma adesso effettivamente ricordo voglio voglio fare mente locale su alcune operazioni che ho fatto su solana nft quella due sui medlets una su con eugene una con e una con torino da un grosso modo gli abbiamo comperati intorno ai 1.000 dollari 1.100 dollari oggi valgono quasi 30.000 cioè quando si menzionava quando si ah mi state provocando dove è andato è tutto buio qua aiuto ecco come si sentono allora adesso pronti li avete tutti dai dai siamo tutti con gli occhiali siamo allora ma la domanda è con quegli occhiali si scopa di più? in un momento in cui c'era un po' di abbandono e calo dell'hype sapendo che erano quelle che in un futuro molto lontano forse si sarebbero trasformate nelle nuove borde ip sull'anayop mille dollari io ce li ho cacciati perché tanto alla fine fine da mille è un po' difficile che vadano a zero magari scendono di altri 30 40 punti percentuali non è che ti rovini magari vabbè eugenio ti avevo dato degli alfa importanti su medlets si no ma il medlets è stato lo hai preso prima è stato acquistato poi anche poi anche solana monkey business generation free grazie Pietro ti ho ascoltato e l'altro ieri ok bears quindi adesso ci faccio una riflessione e mi ne vado a comprare e vado a comprare qualcos'altro e quindi ci sono dei momenti in cui bisogna avere il coraggio di cliccare il dittino sul mouse perché c'è tanti ti dicono poi a distanza di tempo poi c'è stato fortunato no perché se uno ci crede vede che cosa può rappresentare quella collezione sa che è molto più difficile che magari una collezione si schianti a zero se una di quelle fango sì esatto e pertanto magari in ottica appunto di resilienza del portafoglio ci vuoi ammettere qualcosa quindi sì quindi da quel punto devi crew senza scazzi 9-1-1 11 settembre never forget comunque ritorniamo pertanto a fare gli official gangster gangster official tocca a Sam e Davide che cosa ne avete qualche dritta sui i decks visto che avevamo iniziato con i decks e qua con l'occasione faccio vedere anche uno dei decks che io ho iniziato allora qui ho iniziato aspetta aveva un'opinione aveva un'opinione controcorrente signor Davide io c'avevo un'opinione controcorrente però cosa sei un salmone la volevo dire prima e adesso non mi ricordo quello che stavo pensando sulla gente eri sulla gente che entrava nel mercato ah no sì ecco 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 ce l'ho grazie Sam allora prima di arrivare ai decks che poi a quello ci arriviamo perché mi sto divertendo veramente mi sto divertendo veramente tanto quello che volevo dire è che effettivamente secondo me bisognerebbe valutare piuttosto bene le nostre fondamenta a livello di conoscenze di progetti discorso serio nel senso ora come ora ci troviamo in una situazione dove magari progetti che ne vengono da bull market passati faccio un semplice esempio non mettiamo in in comparazione eh Jupiter Jupiter con Radium ok sì io oggi no oggi il cazzo ieri mi sono messo a utilizzare Radium perché ho detto visto che sono un boomer ormai di questo mondo e ne vengo dalla scorsa run mi sono messo lì con il mio bastone e i miei occhiali da vista e ho detto ah mettiamoci a fare un po' uno swap su Radium Radium tre ore per caricare una vita per beccarti i valori del portafoglio e vi dicendo ho detto vabbè magari ho la connessione che va di merda ricarico la pagina e stessa situazione ho detto vabbè magari vediamo un po' se se Jupiter funziona un attimo meglio boom tempo cinque secondi su Jupiter avevo già fatto tutto ora questo è un piccolo discorso per introdurre una questione un po' più grossa quindi noi che ormai abbiamo degli anni in cripto siamo piuttosto maggiorenni per quanto riguarda i crypto markets potremmo ricadere nel rischio di rimanere ancorati alle nostre convinzioni rispetto a quelli che sono i progettoni fotonici le blue chips e vedi dicendo che in realtà se ci vai a pensare fai un ragionamento completamente senza nessun tipo di bias cardano sta arrivando e infatti guarda che hanno rilasciato le stable coin e ricadiamo stanno arrivando ricadiamo proprio lì è l'anno di cardano il 2024 ragazzi è l'anno di cardano è l'anno di cardano perché poi l'anno del cosa ho visto anche sul calendario cinese che è l'anno del bradipo quindi siamo perfetti allora si va è l'anno di cardano ragazzi il discorso è c'è rischio appunto per noi che comunque abbiamo già vissuto bull market passati di rimanere ancorati a quei progetti che venivano contati come blue chip in passato il punto è che loro hanno già avuto la loro grossa fase di hype folle ma c'è il rischio che questo hype non ritorni perché ci sono nuovi progetti con molto più hype molta più fame in realtà di questi progetti che si baseranno proprio sul creare hype nuovo perché non ce l'hanno avuto in passato hanno lanciato in questo momento e hanno la necessità comunque di trovarsi il loro spot all'interno del mercato cripto per cui sebbene comunque ci siano progetti che hanno lanciato in bull market passati che comunque sono tuttora del blue chip vedi magari chain link vedi magari solana stessa cioè per assurdo comunque ha fatto una run esagerata la scorsa la scorsa bull run ne sta facendo un'altra tuttora e sta dimostrando che comunque c'ha due palle così solana però in realtà però in realtà vai a vedere quello che è successo con polkadot per dire che prima parlavamo di polkadot polkadot scorsa run ha fatto una bellissima corsa super dignitosa contando anche tutta la questione delle paracce in auction che chiaramente hanno aiutato parecchio il prezzo quest'anno invece tu l'hai vista? sì l'ho vista dal bisola marina però era in mare non se la cava tanto bene stavo cercando di raggiungere il boino no ma non so se ce la fa sto provando a nuotare verso la riva però la vediamo abbastanza dura almeno una settimana che ci prova comunque detto questo per cui appunto piccolo avviso sicuramente bullish su le blue chip sol pt cioè sol pt giustissimo giustissimo sicuramente bullish sui progetti che venivano considerati i blue chip in passato ma con cognizione cioè non non tuffiamoci sul dire cardano anche perché cardano sappiamo chiaramente tutto ciò dipende da davide bellissimo questo tuo intervento perché io lo sposo al 100% nel senso che è questo che fa la differenza adesso nella fase chiamiamola così di screening o di selezione di picking di quello che devi mettere in portafoglio per provare al generale performance smarcati dal resto cioè levarsi come hai fatto ben capire tu dalla testa che quattro anni fa dentro un portafoglio dove c'è c'è appunto cardano polkadot dash qualche altra minchiata che non mi ricordo che adesso non hanno più significato perché nel frattempo è arrivato qualcosa che ha scalzato che ha smarcato e lo si capisce da come arrivano dove si stanno dirottando i capitali e Gaetano da questo punto di vista c'è l'altra volta mi ricordo che avevi menzionato neom neom come iwm dentro come progetto emergente dentro solana c'è qualche c'è qualche altro sui tuoi radar che ti piace sì io io faccio la mia chiamata che adesso sono tutti pazzi per l'rwa real world asset ci metto tutto il portafoglio vai c'è rischio c'è rischio che si stia creando una bolla similare a quella del metaverso dei tre anni fa con i real world asset mentre un altro tema settore di mercato completamente ignorato che è il depin e da questo punto di vista c'è dentro l'ecosistema di Solana tre almeno tre io.net che sono a nostro modo di vedere render render ilium e ilium e il terzo qual'era ilium e ilium e render ce n'è altri mapper per chi non lo conosce andatevelo ad approfondire perché eh piglia ma io lì ve lo semplifico per chi anche sta ascoltando consente di montarsi un dispositivo nella propria automobile e ogni quando si gira questo fa tipo google map fa le sorti di google map e ti paga in token dell'ecosistema per il fatto di mappare il territorio quindi è un'alternativa decentralizzata google map con tutta una serie poi di altre quant'è di cap? se sopra 10 milioni non mi interessa no ma quindi Eugenio domanda fondamentale secondo te render anche dopo la sua corsa e a questo livello ha ancora gambe per correre nel breve o la vedi più come una play di lungo periodo in cui potrebbe trovarsi davvero una cap molto molto più alta render se uno capisce che cosa serve come funziona si rende conto che è tipo Netflix ma qualcosa del genere cioè come idea come idea chi segue road 200k e altri portafogli rendere lì fermo in posizione per adesso non ho intenzione di andarlo a scaricare io poi faccio no dico che faccio dei ragionamenti assurdi cioè siccome potrebbe essere una narrativa simile ora sono piuttosto diverse però tipo mi veniva in mente Filecoin la comparavo con Filecoin infatti sono Filecoin se non erro sopra e sotto c'è il render però Filecoin ha avuto una TH di circa 70 dollari no di più di più 100 erotti è per quello e hanno la stessa supply in questo momento Filecoin ha 9 dollari per farti capire comunque non è che la narrativa su Filecoin è cambiata perché c'è i PFS dietro quindi c'è c'è tutta un'infrastruttura effettivamente ben costruita e sinceramente si considera prendere ancora per la camera prendere per la camera cosa hai adesso sul tuo radar Gaetano che ti piace dell'ecosistema che magari non è particolarmente attenzionato perché lo stai proprio utilizzando guarda ne parlavamo prima ed è una cosa che in questo momento io lo sto guardando con un occhio di con un occhio di utilizzo proprio che è che è praticamente sul mail quindi praticamente un caso d'uso reale concreto effettivamente sull'utilizzo con quello che può essere ad esempio l'utilizzo del lo scambiarsi mail su blockchain che più più o meno secondo me anche un catalizzatore di questa di questa scelta di questa soluzione è stato solchat praticamente che funziona molto bene pure chiaro ovviamente sono tutte soluzioni attenzione che richiedono sicuramente velocità se vai su ethereum pagheresti l'ira di dio per praticamente scambiarti due messaggi e ci impiegheresti un'infinita di tempo se non hai se non hai sotto un'infrastruttura veloce e con a basso costo tutta sta roba qua non funziona cioè queste sono use case che fanno bene perché hanno un'infrastruttura sotto che gli permette di avere di avere esattamente quello che gli necessita per per le loro funzionalità attualmente ho visto pure che è uscito sol files pure che è un'altra cosa per lo scambio di file che vuole emulare un pochettino quello là che praticamente ne parlava adesso che era che era praticamente file coin su solana però diciamo che per arrivare a file coin ce ne vuole però ripeto ce ne sono dove ti arriva poi la mail le dicono giustamente e la mail tramite l'address la puoi tutto tutto gioca la blockchain funziona con gli indirizzi quindi non ti può arrivare voglio dire se no sui indirizzi hanno postato hanno postato il tutorial la registrazione di una demo e fa capire come potrai scrivere una email in ottica decentralizzata utilizzando il tuo address che sarà ovviamente un po' come paypal che aggancia un account o un email qua aggancerai un email o un dominio su un address questa è una di quelle use case che veramente quando la lanceranno adesso tra 3-4 giorni quello potrebbe creare effettivamente un altro effetto overboost al prezzo perché ci sarà interesse nell'andare a provare testare utilizzarla e così via e non dimentichiamo mai che tutto il numero dei wallet attivi è schizzato a record storici proprio grazie all'MM coin hanno alimentato tutta user experience e quindi hanno creato nuovi adopter nuovi utenti immaginate poi qualcosa del genere quando sta roba qua che comincerà ad essere come si dice recensita dai giornali informatici blog content creator veramente diventano casi che poi creano aspettativa anche sulle dinamiche di prezzo aggiungo un'ultima cosa questa l'ultima che ho oscillato poi tutto quello che stiamo dicendo non sono consigli finanziari perché tutto può cambiare però stiamo guardando interesse sostanzialmente a quelle che possono essere applicazioni casi d'uso reali già è uscita da 24 ore la possiamo trovare su CoinGeek o non su CoinMarketCup al prezzo di praticamente 6 centesimi e in questo momento abbiamo una max supply di circa un miliardo o più o meno 999 milioni 990 mila quindi sì un miliardo altino il prezzo comunque è altino il prezzo sì 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 assolutamente cioè altino dipende poi da quanto viene utilizzata poi magari è dall'utilizzo io ancora questo voglio capirlo una volta che viene rilasciata sicuramente andremo a testarla per bene volevo capire l'utilizzo che diciamo aveva il token all'interno della piattaforma perché poi la cosa più importante è questo per anni si era detto pure ad esempio che su c'è il link c'era link che non aveva utilizzo non aveva senso perché funzionava senza in realtà link con la funzione RC677 quindi con la funzione di transfer and call praticamente ti funziona senza di quello diciamo come fai a trasferire a fare la chiamata e a fare il trasferimento dei dati quindi sostanzialmente l'utilizzo del token è una delle tante cose che bisogna guardare perché poi alla fine scopri che il token magari è semplicemente un modo per spingere il progetto ma non serve nemmeno per il progetto quindi va capito anche quanto il token è importante quindi il prezzo relativamente può essere alto ma relativamente potrebbe essere basso dobbiamo andare a vedere poi quando esce la piattaforma sicuramente la meme season aiuta parecchio in questo senso volete l'isatoken? certo certo allora droppate tutti i vostri Solana l'address che adesso vi diamo qua nei commenti non vi preoccupate non succederà nulla facciamo la pre-sale il sito carino droppiamo è un multisig le sig sono mie di Davide gli altri due firmiamo tra l'altro questa non so se voi l'avete mai forse tu Gaetano da tecnico anche informatico avete mai provato a simulare l'indio di una dotazione di token a 300 400 altri tutti allo stesso tempo sapete come si fa? ci sono ci sono svariati tool uno in particolar modo in cui tu hai a fare come? Famous Fox lo fa? sì sì esatto ma su Solana stai dicendo Uggianio ovviamente su Solana che è la motivazione per cui poi si è voluto fare il drop di Torino è quello proprio di creare un case un use case in cui facciamo vedere che senza essere dei mega picchiettoni anche noi abbiamo la capacità di utilizzare dei tool che hanno sviluppato alcuni builder in cui una volta che hai il pacco il blocco di tutti gli address recuperati da una funzione di hash list in un determinato momento su un token su un NFT o sull'interazione con un DEX il tal giorno e così via poi puoi decidere di mandare quindi basta fare copia e incolla tutti gli address come se fosse delle email metti quanto quanta dotazione vuoi inviare ad ognuno in parti uguali è importante che rivela la dotazione premi click dai esecuzione con l'interazione del wallet che firma il signature il tempo qualche secondo boom fai il drop al costo di 0,0025 fallo su ethereum fallo su ethereum che io l'ho provato fallo su ethereum su remix allora a parte che ho fatto un video sul canale praticamente come in tre minuti si crea un token quindi per la facilità di creare un rc20 su ethereum ho dovuto mi sono beccato la giornata in cui c'era la rete mezza bloccata quindi per creare il token ho detto entro tre minuti finiamo sto token perché avviene un codice del cavolo si fa in un attimo cioè addirittura potresti paradossalmente se non vuoi mettere funzionalità particolari fai copia e incolla su github di un classico rc20 e te lo fai generare è facilissimo però quando fai la transazione su ethereum e c'è la rete bloccata ti stai così aspettando che il remix ti fornisca come risultato voglio dire che il token è stato creato col cavolo che puoi aspettare ora per non parlare del prezzo per non parlare del prezzo non parlare quando dovresti pagare anche se la volessi fare esatto allora amici miei non dell'avventura visto che siamo in prossimità del ci mancano ancora dieci minuti adesso dobbiamo creare un po' di facciamo roviniamo il sonno a chi ascolta e a chi ascolterà poi anche domani una foto dei miei piedi prontissima sì vedete degli ingubi proviamo a fare proviamo a fare qualche ipotesi di scenario prezzo adesso facciamo un worst case scenario un best case scenario il best case scenario la relazione però cosa? no the move no no price prediction solo su Solana quindi come si chiama best case scenario che mette insieme cosa mette assieme che mette assieme il lancio il mainnet di Fire Dancer il proclama di qualche emittente di ETF che dopo Ethereum o in parallelo Ethereum vogliamo anche l'ETF di Solana negli Stati Uniti e terzo i volumi di stable coin sulla DeFi su Solana raddoppiano rispetto ai livelli attuali significa che già adesso stiamo davanti a Ethereum di tipo 30-40 punti percentuali in volume se raddoppiano significa un numero di user che letteralmente esplode questo è il best case scenario worst case scenario invece ostilità normativa post Ethereum spiacevolezze su Bitcoin per gli ETF per qualche ragione si verificano prese di beneficio scarichi robe varie effetti negativi post halving e deterioramento del quadro macro ecco lasciamo perdere lo scenario intermedio che vorrei ma non posso come un po' un trans ma vediamo le due parti le due parti buono e cattivo secondo voi ricordiamo che io direi di approfittarne ricordiamo a tutti chi ascolta che queste non sono ipotesi di investimento ipotesi aleatorie su possibile azione di di mercato qualora appunto ci fossero tutte queste condizioni in sequenza sia positivamente anche perché se fossero state deterministiche io ero in mutante già mi ero venduto la casa le muta tutto smash esatto mi raccomando ragazzi la n-word prima di tutto not financial advice solo vedro fa la n-word financial advice ok no oltre a questo mi raccomando ragazzi magari giochiamocela bene questa roba qui così almeno vediamo di essere tutti completamente bearish così almeno instauriamo quella liquidation cascade e facciamo un altro by the deep importante che ne dite tanto ci abbiamo mezzo milione di persone ok secondo me Anatoly Iacovenco gli viene un icto sì sì Solana ha 10 dollari di nuovo a parte gli scherzi allora 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 quindi press predictions per quanto riguarda solo Solana dai sì solo Solana ok fango su tutto il resto chiaramente 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 ma infatti adesso poi vado col pennarello sta roba qui però c'è la maglietta di te è che me l'ha andata gratis chi sono io per dir di no comunque a parte questo io sinceramente ragazzi non mi picchiate non mi picchiate però in questo ciclo in questo ciclo Solana 1000 dollari fatico a vedercela perché eh lo so eh lo so chiamatemi pazzo pazzo per Gesù però in questo ciclo la vedo abbastanza non dobbiamo essere ciechi come i massimalisti uno cerca di essere ragionevole quindi ci può essere un up e un down come oscillazione mille neanch'io ritengo che per questa fase sia ma quindi 1000 non non li mettiamo in cantiere e invece sul lato opposto aspetta 1000 non li mettiamo in cantiere però appunto come dicono anche in chat 450 500 forse è fattibile a seconda cioè nel senso Fire Dancer viene fuori che comunque funziona bene come si deve solana riesce effettivamente a far vedere a tutto il resto del mondo cripto che ha la possibilità di di tirare fuori questo throughput allucinante magari vediamo una season 2 della Mimcoin Mania in coincidenza con la Burran pazzesca in generale del mercato anche anche qualsiasi cosa e per cui potrebbe succedere come roba ovviamente ovviamente questo ha patto che tutto il resto del mercato resista e che ci sia magari anche non dico un super ciclo però comunque un una Burran molto consistente cioè ci sono ci sono un sacco un sacco di se di punti di domanda che entrano in gioco per quanto riguarda il lato negativo invece potrei adesso anzi guarda mi vado a prendere un secondo la chart isolana solo che con sta roba qui non vedo un cazzo qua in faccia prendo la chart una settimana e ti dico subitissimo il prezzo guarda io ti dico un 60 dollari 60 dollari ok 60 dollari e tu Sam? mi trovo abbastanza allineato credo però che a meno che appunto di Black Swan oppure semplicemente fasi di scarico incredibilmente pesanti che possono anche succedere perché ricordiamo che seppur adesso ci sono gli ETF su BTC e in generale più interesse istituzionale sulle varie alcoin principali siamo comunque in un mercato over leveraged e lo saremo sempre perché quella è una delle attrazioni principali in crypto quindi come abbiamo visto anche in verità nei giorni scorsi una piccola fase di dump è diventata comunque con dei week abbastanza pesanti proprio per queste liquidazioni molto aggressive record in alcuni casi e io a meno che di una liquidation cascade come ha detto Davide causata da noi o da altri eventi giganteschi credo che potremmo invece ritestare leggermente sotto i 100 dollari prima di andare in un best case scenario bullish abbastanza bullish il mio best case scenario è anche lì attorno ai 2x dallo scorso ATH quindi tra i 500 e i 550 dollari per lo meno diciamo per i prossimi 5-6 quarter del mercato crypto ecco Pietro Gaetano Pietro una persona prego 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 poi vi faccio dico la mia bravo Pietro vai Moonboy resta per ultimo come dico 350 e 450 vedo che il mercato bullish voglio essere proprio coi piedi per terra realista in questo momento se tutto va bene poi va più su sono solo contento figuriamoci però vedo che 350 e 350 quello che fa la prediction più alta si becherà il titolo di BitBoy Crypto per la prossima live vede l'Italia Solana Alliance Fit Sol Crypto invece Birish dipende 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 che cosa succede cioè ci sono troppe variabili quindi veramente questa è ultra sparata senza nessuna analisi quindi facciamo 60 dollari pure io sto 50-60 dollari sì però deve essere una catastrofe cioè nel senso deve crollare il mondo praticamente abbiamo notato come è stata resiliente in questi ultimi tre mesi rispetto al resto cioè che c'erano magari cash crash su Bitcoin ma tutto sommato reggevano bene come c'era detto bene sino ad oggi Pietro allora io ho qua il CoinMarketCap CoinGecko come cacchio si chiama sotto mano no e noto che la market cap attuale di Solana è 88 miliardi miliardi di dollari scusate milioni problema di 88 miliardi 82 miliardi di dollari scusate e noto che se Solana raggiungesse la capitalizzazione di mercato di Ethereum sarebbe quel famoso 5X che porterebbe Solana a 1000 dollari ok a che punto del ciclo siamo non si sa a che punto del ciclo siamo ipoteticamente rispetto al ciclo precedente siamo comunque in una fase abbastanza avanzata del bull market diciamo una fase intermedia non è ancora arrivata diciamo quella narrativa di cui parlavo prima di retail che arrivano su quale cripto puntare si è consolidata nel tempo il fatto che Solana possa essere effettivamente un buon surrogato di Ethereum un buon competitor di Ethereum quindi perché Solana non potrebbe essere l'Ethereum del ciclo scorso ossia quella cripto super drogata super pompata super acquistata che porterebbe effettivamente la capitalizzazione di mercato di Solana simile a quella di Ethereum e quindi raggiungere la stessa market cap e quindi mille dollari ok continuiamo a sparare puttanate che arrivano aspettate no partisca vedo ti odio è una bellissima narrativa è una bellissima narrativa quindi ci credo anch'io su quello che hai appena detto Pietro perché se andiamo a leggere a studiare la reportistica di chi adesso sta studiando il mercato e fa questo tipo di previsioni è in sintonia con questa con questo con quello che hai delineato cioè per carità nel 2021 c'è stata la pandemia che ha cambiato ha modificato anche il nostro comportamento quindi il fatto che siamo stati più disposti a rischiare buttarci dentro mille dollari e così via adesso bitcoin ha un prezzo che un retail difficilmente si avvicina ethereum si comincia a sentire che ha problemi chi è che ha un bel prezzo psicologicamente parlando e si continua a parlarne che è speed of light ed è lì che probabilmente inizieremo a vedere un decoupling almeno questo è la mia aspettativa un decoupling quindi il mercato magari gira male gira negativo ma e l'abbiamo anche visto recente ma viene un afflusso di capitali e un numero di utenti costantemente in crescita che tiene che fa pressione in acquisto quindi in particolar modo lo si sta vedendo con la DeFi e le stable coin che adesso chi vuole smanettare sulla DeFi va sui protocolli di Solana e questo è innegabile lo si vede poco da come vengono o come aumentano i depositi delle stable che vanno lì oggi anche USDT per Sol vanno lì su quel tipo di ambiente ed è un indicatore è un indicatore di adozione e l'adozione è quella che poi genera interesse interazione richieste immaginate se arriverà veramente lo faccio in questo modo guardo guardo che cosa ecco ad esempio vi ricordate due mesi fa ci sono stati i famosi airdrop di Gwen di Jupe la 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 didattica dei influencer in Italia è ciappa gli schede che te la dà subito vendili perché dopo crolla tutto chi oggi avesse mantenuto sui airdrop avrebbe già fatto un 3x sui airdrop c'è lascia stare che io ho venduto Celestia praticamente subito quando mi è arrivata mi sto ancora mangiando le dita dei piedi però comunque volevo un attimo mitigare non mitigare comunque contestualizzare la sentenza di Wedro per quanto riguarda questa cosa qua di Solana nel senso ci troviamo in un momento dove ormai bitcoin è diventato non dico intoccabile però quasi quella cripto istituzionalizzata ora il numero 2 è Ethereum ci sposteremo in una condizione dove anche Ethereum prima o poi succederà anche lei diventerà l'altra cripto istituzionalizzata e quindi il discorso effettivamente è chi sarà il prossimo Ethereum chi vuole essere milionario in questo caso effettivamente chi ci mettiamo di mezzo ci mettiamo Polkadot ci mettiamo XRP non penso proprio non può entrare effettivamente Solana è quella che sta facendo un po' la parte del leone che ha fatto Ethereum nella scorsa run per cui sinceramente io non mi sorprenderei più di tanto di vedere una Solana che piano piano afferma sempre di più la propria presenza all'interno del settore cripto non che adesso non se la caghi nessuno perché comunque siamo qua a parlare però effettivamente c'è la possibilità che diventi riconosciuta a prescindere come la numero 3 del settore cripto non mi aspetto magari un un flippening perché quello potrebbe arrivare solamente nel momento in cui anche verso Solana arrivano capitali istituzionali non dati da etn vari che già esistono ma da etf appunto emessi dai più grandi asset manager però fino ad allora io sinceramente Solana come numero 2 nel mondo cripto dietro l'agglomerato delle cripto istituzionalizzate come Bitcoin Ethereum ce la vedo abbastanza facilmente e non perché voglia fare il Solana Moonboy di chissà cosa un pochino però perché effettivamente comunque ha tutte le carte in regola poi se mi viene a dire eh no però Solana poi si blocca va bene negli ultimi sei mesi c'è avuto uno 0.063 cos'è di downtime va bene bene anzi 0.06100 0.06% in un mese perché gli altri sono 100% stanno arrivando comunque un sacco di novità anche all'interno di Solana cose tipo transazioni confidenziali Fire Dancer che ne parlavamo prima cioè nel senso c'è ancora tanta strada da fare soprattutto dalla tecnologia real life Solana si muove perché ha già un modello di telefono che è collegato anche al suo mercato perché chiaramente comprare cioè l'utente medio non comprerà mai un Solana phone rispetto a un iPhone 14.000 per adesso però io vedo questa condizione di diciamo il flippening per fare un po' il Moonboy legata a due condizioni primarie ovvero la prima è che i capitali istituzionali dovranno magari nel corso dei prossimi 5-10 anni vedere Ethereum come blockbuster e Solana come Netflix quindi il distacco tecnologico anche solo percepito a livello di narrativa deve non solo rimanere questo ma anche aumentare che abbiamo visto comunque ci sono le carti regole per fare questo ci sono anche le carti regole per Ethereum di riprendere un po' di terreno anche a livello tecnologico se Daikun viene tra due anni quando le fees abbassano quando Ethereum avrà le fees il famoso quando Ethereum che rimarrà nello spazio quando ci sarà lo splorked esatto quella upgrade lì e la seconda cosa che credo dovrà succedere è che Solana dovrà sempre di più essere abbiamo visto il commento Solana is the new Apple Solana dovrà sempre più essere gestita come una tech company a livello di prodotti a livello di per forza e a livello di anche impatto groundbreaking su tecnologie anche real life che possono essere chip come Nvidia piuttosto che telefoni quindi far diventare il Solana Phone un competitor vero e proprio adesso non ti metterà a competere con Apple perché comunque sappiamo tutti che il Solana Phone fa cagare però a parte quello comunque fa cagare adesso tra 15 anni non farà cagare infatti se sono venuti fuori con queste feature groundbreaking del tipo yo fratello mio fai tipo la foto e lo metti come NFT infatti c'è tanta strada da fare ed è questo che secondo me può veramente fare la differenza con Ethereum che non è al passo con anche la gestione chiamiamola aziendale della propria foundation con quello che sta facendo Solana che ogni capitale che gli entra va dentro a Solana chiudiamo con questa di Bitfro che è bellissimo l'anno scorso l'ivario Solana era 41 adesso è 5 a 1 stiamo a vedere dai stiamo a vedere allora siamo in chiusura ricordiamo soprattutto chi ascolta la registrata che il terzo episodio della Italian Solana Alliance andrà in onda alla fine di aprile rimanete sintonizzati che saprete il giorno con esattezza ricordiamo ricordate ognuno di voi le novità o lanci che sono legati ai vostri rispettivi canali Pietro Gaetano e Sam e Davide prego prego Pietro con lanci cosa intendi ah novità dici dai Wedro interazione interazione molto grazie per lo sapere interazione con la tua community anche se ci sono novità che vuoi far conoscere novità in realtà sono tutte un po' nascoste però seguiteci su canali discord dove abbiamo interazioni riguardo alfa cose interessanti utilizzare come utilizzare strumenti come non farsi scammare come recuperare le cose se te le scammano eccetera eccetera quindi crypto community di gene non su Solana NFT Ordina e quant'altro let's go molto bene Gaetano se non siete bitcoin maxi potete seguirmi su twitter o su youtube sul canale di youtube quindi The Crypto Game perfetto Sam e Davide noi vabbè adesso vi droppiamo in chat il link per entrare nel nostro bellissimo gruppo telegram dove oltre che di crypto si parla un sacco anche di piedi e oltre questo a fine aprile ragazzi miei se volete venire a fare casino adesso non vogliamo fare sponsors nessuno però c'è un famoso evento che ci sarà al 26 in occasione dell'alving di bitcoin sappiamo tutti quello con The Crypto Gateway quello che sta organizzando Luca Bogliardi ci siete? venite? se entro in Italia faccio il possibile Eugenio ci serve ci sono ti ricordo solo che te sei veneto e ci sono i free drinks Eugenio ci servi ci servi se viene Eugenio mi ha scritto anche oggi invitandomi se sono in Italia per quel periodo lì e sono ancora un po' troppo presso in Italia mi organizzo e si fa bisbocce sì io vengo là appunto per bere dove? facciamo bisbocce a cazzo a Milano sui Navigli dove cazzo? dentro ai Navigli immergiti in un Naviglio vabbè dallo store Dolinoire a Milano in corso di qualcosa di Porta Ticinese scusa ma ci sono ma è previsto che ci siano anche ragazze allora no è un evento quindi secondo me no ci sono tutte quelle ragazze in cripto favolose ce ne sono addirittura sette tipo quelle col pomo da damo forse no allora io serve le portiamo guardate che no che non per quella immaginate se per quella data c'è stato qualcosa di negativo sul mercato ci siamo solo io te Wedro e Davide e Gaetano se possibile negativo ci ubriachiamo negativo sul mercato ci siamo solo noi esatto allora per chi ha ascoltato ricordate che trovate poi tutti i link per andare direttamente sui rispettivi profili sia Twitter che anche di YouTuber in descrizione ai video tra un mese terzo round table della Italian Solana Alliance grazie a tutti per la partecipazione grazie ai partecipanti i miei auguri in buoni investimenti e anche di Santa Pasqua per le imminenti festività pasquali buon trading e come sempre buona Solana noi ci vediamo tra un mese a presto arrivederci rimanete sintonizzati rimanete sintonizzati buona Solana